Un Locri assolutamente spietato è quello che è sceso in campo a lungo bucco di Scalea nella penultima partita della stagione, ultima trasferta per gli Amaranto che mandano in archivio un campionato straordinario imbattuti fuori casa. La partita viene decisa al ventiquattresimo del primo tempo da un gol fortemente voluto e soprattutto bellissimo nella realizzazione di Marco Puntoriera, autentico killer soprattutto in trasferta, che dopo aver risolto diverse situazioni difficili e marcato la rete che valsa la Serie D non vuole più smettere di segnare. La partita è stata giocata dallo Scalea sul filo del rasoio e soprattutto con molto nervosismo. Prova ne è che al trentaseiesimo del secondo tempo Carvelli non ha potuto fare a meno di espellere Chemi appena entrato. Anche il Locri al termine ha concluso con dieci giocatori in campo per l'espulsione di Castellano. A questo punto ci sarà una passerella finale probabilmente in campo neutro per il Locri a causa dei lavori di restyling del vecchio comunale contro l'Acri che con i risultati maturati oggi non disputerebbe il postseason che invece spetterebbe allo Scalea per provare a salvare la categoria.